Bene, ragazzi e ragazze di Terza C, serata di Pasquetta e quindi ho pensato cosa c'è di meglio che festeggiare questa ricorrenza se non facendo un po' di cose interessanti insieme. Allora, in questi giorni stavo preparando le lezioni della prossima settimana per quanto riguarda la termodinamica, come sapete l'argomento che stiamo affrontando. E ho pensato che non posso farvi la termodinamica senza avervi introdotto quella che si chiama la distribuzione di Boltzmann. È una cosa che da tanto tanto tempo avrei voluto fare in Terza e non ho mai avuto l'occasione o se vogliamo il coraggio, perché in Terza non si hanno alcuni strumenti matematici, almeno in questo punto dell'anno, che sarebbero effettivamente necessari. Non facendo con voi matematica, facendo solo fisica ho anche il problema aggiuntivo di, come dire, dovermi sincronizzare con il vostro insegnante di matematica e non sempre questa cosa è semplice o facile da fare normalmente. Figuriamoci adesso che siamo bloccati in una situazione ancora per un po' di tempo non chiara. Per cui ho preso il coraggio a due mani e ho deciso di anticipare un pochettino i tempi, chiedervi di essere in qualche modo in grado di crescere un po' più velocemente di quello, crescere dal punto di vista intellettuale, sto parlando della fisica, una crescita culturale un po' più rapida di quello che normalmente richiedo, però ho anche pensato che in questo momento di difficoltà per ognuno e ognuna di noi non posso rendere nulla obbligatorio. Per cui faccio questa lezione per quelli di voi, studenti e studentesse, che abbiano effettivamente voglia di vedere anticipato un argomento che, lo dico subito, è essenzialmente quella che i matematici chiamano la funzione esponenziale. La vedrete da un punto di vista più formale, quasi sicuramente rispetto a quello che sto facendo io adesso con il vostro insegnante di matematica, se non alla fine di quest'anno, l'anno prossimo è in quarta sicuramente, ma come vi dicevo ha molte applicazioni in fisica e in particolare mi servirebbe per potervi parlare, non dico in maniera approfondita, ma almeno fare qualche cenno, a uno dei punti essenziali salienti della nascita delle idee termodinamiche nell'Ottocento e che ci portiamo a fine giorni nostri, per cui ho pensato di anticipare, ok? Quelli e quelle di voi che ritrovano in questa lezione una complicazione eccessiva possono saltare, va bene? Vorrà dire che nelle prossime lezioni di fisica alcune cose le prenderete in modo un po' apodittico e vi fiderete senza toccare con mano e poi sistemerete tutto eventualmente l'anno prossimo, va bene? Dico anche che l'argomento non è dei più semplici, per cui io oggi non farò, come dire, dimostrazioni matematiche, ok? Darò dei suggerimenti, farò una specie di suggestione, un suggerimento su quella che potrebbe essere questa funzione e di cui mi interesserà poi, come dire, sottolineare alcune caratteristiche che sono quelle che poi mi interessano per l'applicazione in fisica, ok? Quindi sarò molto disinvolto per alcuni aspetti che invece bisognerebbe affrontare in maniera un po' più formale, in maniera anche più delicata e andremo un pochettino al sodo della questione, ok? Però lo facciamo come se fossimo dei matematici o dei fisici addirittura settecenteschi, cioè cercherò di mostrarvi alcune proprietà di questa funzione particolare senza l'uso di derivate e limiti integrali che è qualche cosa che effettivamente semplificherebbe molto la vita ma lo studio iniziale di questa funzione avvenne più o meno come lo facciamo noi stasera quindi anche in quel caso si fanno avanti un pochettino così a tentativi, va bene? Poi in quarta e in quinta avrete tutto il tempo per sistematizzare questa nozione e vedrete che la funzione esponenziale è la sua inversa che prende il nome di funzione logaritmica ma che non mi interessa in questo momento mi seguirà fra qualche settimana quindi stasera mi concentro sulla funzione esponenziale e vedrete molte applicazioni non solo in fisica ma anche in matematica, va bene? Dico anche che questo video l'ho pensato per la mia terza c ma male non farebbe nemmeno la quarta n visto che abbiamo fatto insieme la funzione esponenziale all'inizio di quest'anno però qui la faccio in modo diverso da quella che abbiamo fatto in classe e quindi potrebbe essere un panorama di qualcosa che già conoscete ma da un'angolazione leggermente differente e perché no quinta H studenti e studentessi di quinta H sono quelli che possono apprezzare maggiormente le esposizioni di stasera perché man mano che io dirò alcune cose possono mentalmente dire ah ah ma questa è la derivata ah ma questo è l'integrale ah ma questa è la parità eccetera eccetera va bene? Allora come definiamo la funzione esponenziale? Beh voi avrete visto sicuramente in questi due anni e mezzo o quasi tre anni ormai di matematica delle superiori alcune funzioni in particolare avete visto i polinomi e di alcuni almeno di due tipi di polinomi avete visto anche una loro rappresentazione grafica ok? Per esempio avete visto che una funzione del tipo ops scusatemi che c'è Anna che mi chiama eccomi per esempio dicevo avete visto che un polinomi di primo grado lo scrivo in maniera un po' strana normalmente i polinomi si scrivono in ordine crescente di potenza quindi per esempio scriverete a più bx ma insomma un polinomi di primo grado di questo tipo vi ricorderete che può essere rappresentato graficamente da una retta di coefficiente angolare m e termine in otto q vi ricorderete ok? poi avete visto anche polinomi di secondo grado per esempio avete visto che un polinomi di secondo grado del tipo x quadro più bx più c è rappresentabile graficamente come una parabola vedete abbiamo aggiunto un termine di grado più alto ok? probabilmente avrete visto anche le cubiche per esempio un po' di nome del tipo x al cubo senza gli altri termini è una cubica ok? ma anche se ci fossero altri termini sarebbe una cubica ma questa è più facile da disegnare sono sicuro che l'avete vista come caso particolare delle cubiche questa abbiamo detto è una parabola e quindi ha una forma parabolica e questa è una retta non verticale questa è una retta non verticale quindi questi sono esempi di funzioni polinomiali no? cosiddetti polinomi ecco la funzione esponenziale ci sono molti modi di introdurla la introdurrò in una maniera un po' particolare la funzione esponenziale quindi indichiamo con questo simbolo una funzione dovreste averle viste le funzioni in termini generali l'x in generale è una funzione per noi è un oggetto che dato un valore messo nella variabile x ci restituisce un valore d'uscita ok? per esempio la funzione f di x uguale a mx più q mettendo qui un numero lo moltiplicate per m aggiungete q e ottenete il valore ok? se volete rappresentarlo dell'ordinato allora la funzione f di x di cui voglio parlarvi stasera è definita in questo modo 1 più x questo sembra un po' i nomi di primo grado però aggiungiamo anche un termine di secondo grado un mezzo x quadro questo coefficiente particolare adesso vedremo avrà degli effetti interessanti ok? beh questo è un po' i nomi di secondo grado sarebbe una parabola però non ci fermiamo aggiungiamo ancora un termine di terzo grado e come coefficiente mettiamo 1 fratto 3 per 2 dove 3 è questa potenza e questo 2 è il numero che precede qua allora vediamo se abbiamo capito aggiungiamo ancora un termine 1 fratto mettiamo anche un termine di quarto grado e qui mettiamo 4 per 3 per 2 quindi vedete questi coefficienti sono sempre nella forma 1 fratto e poi il prodotto partendo dalla potenza in questo caso 4 per il numero precedente per il numero precedente qui avrei potuto mettere un per 1 no? anche qui anche qua ma moltiplicare per 1 non ha effetti per cui non lo metto qui avrei potuto mettere davanti un 1 fratto 1 qui non posso mettere niente davanti perché non c'è la x e quindi lo lasciamo così vediamo se avete capito non posso saperlo perché anche se lo dite ad altavoce in questo momento io non lo sento ma immagino che abbiate immaginato che il termine successivo è di quinto grado 1 fratto e qui ci sarà 5 per 4 per 3 per 2 e poi per 1 ma per 1 ripeto non ha effetto quindi questo è un 6 questo è un 6 per 4 è un 24 questo è un 24 per 5 quello che farai eccetera eccetera ok? dice va bene ma quindi è un po' i nomi di quinto grado no? perché aggiungiamo anche un termine di sesto grado x alla sesta e qui ci sarà 6 per 4 per 3 per 2 ok? e poi però non ci fermiamo aggiungiamo anche un termine di settimo grado e qui ci sarà 7 per 6 per 5 per 4 per 3 per 2 qui era 6 per 5 per 4 per 3 per 2 ok? senza bisogno di mettere le parentesi tanto è un denominatore 7 per 6 per 5 per 5 per 4 per 3 per 2 e questo sarà x alla settima ma c'è anche un termine di ottavo grado sì e uno di nono di decimo di undicesimo sì ci sono tutte le potenze di x cioè questo non è più un polinomio perché diventa a questo punto qualche cosa che arriva fino al grado infinito ok? quindi questa è una cosa molto strana che in matematica prende il nome di serie è una serie polinomiale quindi andiamo avanti all'infinito allora il primo dubbio che può sorgere è questa roba sicuramente devo sommare infiniti termini come potrà essere un valore no? come potrà darmi un valore se io metto al posto di x per esempio 1 cioè questa cosa se io metto al posto di x 1 sarà 1 più al posto di x 1 più un mezzo per 1 al quadrato cioè un mezzo più un sesto 3 per 2 fa 6 per 1 più un ventiquattresimo più eccetera eccetera sono infiniti i termini e farà infinito in realtà no lo abbiamo già visto vi ricordate quando abbiamo discusso insieme tempo fa il paradosso di Achille e la tartaruga e la successione infinita geometrica ok? in quel caso abbiamo visto che una somma di infiniti termini può effettivamente dare un valore finito ok? e se guardate effettivamente i termini che io qua aggiungo è vero che sono infiniti ma sono anche sempre più piccoli e quindi effettivamente questa cosa qua si scopre e fornisce un numero in particolare vedete 1 più 1 fa 2 più un mezzo viene 2,5 più qualche altra cosa questa cosa fa circa 2,7 e qua però ci sono infinite cifre dopo comunque è un numero quindi la funzione calcolata in 1 è un numero e l'ANSATS che noi facciamo stasera di cui vi dovete fidare come vi avevo accennato non posso dare tutte le dimostrazioni che vorrei darvi è che questa questo oggetto mostruoso qua questo polinomio che però ha un grado che non termina mai quindi potremmo dire quasi addirittura di grado infinito effettivamente fornisce cioè restituisce un valore ok qualunque sia la scelta delle x che io metto dentro ok a tutti gli effetti a noi basterà normalmente prendere pochi termini dipende da quello che dobbiamo fare ok ma per i discorsi di stasera ci possiamo anche accontentare di scrivere qualcosa del tipo un mezzo x al quadrato più un sesto x al cubo e poi con questi puntini intendiamo che andiamo avanti ad aggiungere infiniti termini va bene questa è la definizione di funzione esponenziale una delle possibili definizioni di funzione esponenziale e uno uno potrebbe dire sì ma se io la devo calcolare non finisco mai perché metterò infiniti termini e per fortuna le calcolatrici hanno un tastino per cui voi mettete dentro un numero e vi restituiscono il calcolo della funzione e chiaramente una calcolatrice siccome non può fare un calcolo infinito troncherà cioè si limiterà a calcolare la funzione fino a una certa precisione ok però con uno sviluppo fino a una potenza non troppo alta si ottengono ottimi risultati quindi questa è la definizione formale ok la definizione di funzione esponenziale alla fine della lezione vi farò vedere anche un modo più comodo anziché scrivere un'infinita successione somma di monomi vi farò vedere che c'è un modo compatto per scrivere questa funzione che ricorderà molto da vicino una struttura matematica che già conoscete quella di potenza ok anzi normalmente gli esponenziali si introducono come una sorta di generalizzazione delle potenze ma stasera preferivo fare una strada diversa ok bene al di là della definizione che trovo un po' al tempo che trova che non so bene cosa voglio dire ma spero che mi abbiate capito al di là della definizione dicevo mi interessano le proprietà di questa funzione perché sono queste quelle che mi serviranno poi in fisica quando troveremo appunto alcune applicazioni della funzione esponenziale allora io ve ne elenco alcune alcune ve le dimostro alcune mi chiederò di prenderle per vere e dimostro sempre nel senso di do un suggerimento su quale potrebbe essere una strada dimostrativa e la funzione esponenziale ha moltissime altre proprietà di cui non vi parlerò stasera ma che avrete modo di esplorare con il vostro insegnante di matematica i prossimi anni va bene non vi libererete di questa funzione fino alla fine della quinta per molti di voi neanche dopo ultima annotazione prima di appunto vedere le proprietà che ci interessano in questi giorni si parla molto di crescita esponenziale quando vedete quei grafici alla televisione che parlano dello sviluppo della malattia che in questo momento ci sta bloccando tutti a casa e sentite parlare di curve esponenziali crescita esponenziale è esattamente questa cosa qua di cui stiamo parlando in questo momento quindi vedremo che questa funzione effettivamente rappresenta un fenomeno che cresce molto rapidamente allora ecco vi elenco le proprietà che mi interessano di questa funzione la prima proprietà abbastanza banale è che la funzione calcolata in 0 vale 1 quindi poi proverò a fare anche una specie di grafico di questa funzione e che comunque potete fare con qualunque calcolatrice grafica o con un programma come per esempio GeoGebra ma insomma arriviamo per ordine prima proprietà la dimostriamo tra un attimo è molto semplice questa è immediata la seconda proprietà che non è così immediata è che si può dimostrare che questa funzione è sempre positiva per ogni x ok sia positiva che negativa e in particolare quando x è maggiore di 0 questa funzione è maggiore di 1 e quando x è minore di 0 questa funzione pur rimanendo positiva lo è sempre è minore di 1 quindi questa funzione è più grande di 1 quando le do in pasto un valore come argomento maggiore di 0 se invece le do un valore negativo la funzione rimane positiva ma minore di 1 ok la terza proprietà che anzi forse avrei dovuto mettere per seconda perché con la terza proprietà dimostreremo facilmente la seconda è questa che è molto molto interessante possiamo dimostrare che f di meno x quindi se do in passo la funzione una x cambiata di segno è uguale a 1 fratto f di x questa proprietà è fondamentale darò una dimostrazione vaga un suggerimento scusate che mi chiama di nuovo Anna eccomi dicevo con questa proprietà che è molto molto interessante abbiamo che cambiando segno all'argomento otteniamo il reciproco cioè faccio per esempio faccio un esempio f di meno 1 è uguale a reciproco di f di 1 per dire ok era solo un esempio di cosa significa questa scrittura in termini generali quindi prendendo questo sviluppo e mettendo al posto di x meno x ottengo la stessa funzione di partenza ma al denominatore con uno sopra questa proprietà è veramente focale e molto interessante quarta proprietà non ho usato la parentesi scusate così quando x è maggiore di 0 f di x cresce con questo termine che vedrete meglio alla fine della quarta inizio della quinta intendiamo che man mano che prendo x grandi la funzione diventa sempre più grande e viceversa quando vado a x negativi f di x decresce cioè man mano che prendo valori sempre più negativi la funzione diventa sempre più piccola però attenzione positiva questo anche di nuovo sarà una conseguenza della proprietà 3 quindi la proprietà 3 la useremo sia per la 2 che per la 4 quinta proprietà molto molto interessante anche questa f di x più y è uguale a f di x per f di y cioè questa funzione così particolare e strana se le do la somma di due valori mi dà come risultato il prodotto della funzione calcolata nei due valori cioè una funzione che trasforma somma in prodotti voi avete già visto qualcosa di simile quando avete fatto le formule di Prostaferesi dovreste aver fatto le formule di Prostaferesi in goniometria questa ha una una funzionalità molto simile cioè prendo una somma e la trasformo in un prodotto questa sarà una delle proprietà più interessanti penultima sono 7 in tutte le proprietà di cui vorrei parlarvi la seguente se consideriamo una piccola variazione chiamiamola delta x nell'argomento e le sottraiamo f di x questa cosa possiamo dimostrare che è circa f di x per delta x ok questa sarà di nuovo una proprietà molto importante la possiamo scrivere abbreviata dicendo che se facciamo un piccolo spostamento nell'argomento quindi nelle x ci spostiamo di delta x la funzione varia quindi delta f di x delta f no la funzione dopo lo spostamento meno la funzione prima dello spostamento è circa f di x per delta x cioè la funzione ha una variazione che è proporzionale allo spostamento delta x con un coefficiente che è pari alla funzione stessa dopo vi farò vedere un'interpretazione geometrica di questa sesta proprietà settima e ultima proprietà che mi serve se faccio la stessa cosa ma al posto di x metto kx la variazione della funzione calcolata in kx è uguale a k volte la funzione calcolata in kx per delta x cioè se al posto di x uso una x moltiplicata per un coefficiente quando faccio questa variazione il coefficiente va a moltiplicare la 7 sarà un caso particolare già sarà un caso scusatemi generalizzato della 6 quando k uguale a 1 la 7 e la 6 coincidono bene queste sono tutte le proprietà che vorrei dimostrarvi adesso o che comunque tenderei a dimostrare farò le seguenti dimostrazioni questa che è banale questa che non è tanto banale dalla 3 ne desumeremo la 2 e la 4 in modo molto veloce anzi probabilmente la 4 e la 2 le lascio esercizio per voi dopo che ho dimostrato la 3 e poi dimostrerò la 5 e la 6 anche questo in maniera abbastanza rapida la prossima volta vi farò vedere un'applicazione della funzione esponenziale in fisica ed è il motivo per cui stiamo facendo tutta questa passeggiata ok indipendentemente però dalla fisica notate che stiamo iniziando a fare i primi passi in un mondo un po' particolare di funzioni la cui definizione non è del tutto chiara qua ripeto è un mistero che infiniti termini poi alla fine convergano dando il mio risultato ma su questo punto vi chiedo di fidare però questo oggetto così particolare ha delle proprietà veramente molto interessanti allora partiamo dalla 3 voglio suggerire questo fatto che se io ho la funzione quindi questa è la proprietà 3 se io ho la funzione f di x definita come 1 più x più un mezzo x al quadrato più un sesto x al cubo vi ricordate come faccio a ottenere coefficienti qui metto il termine di quarto grado e qui metto 1 fratto il termine precedente che è 6 moltiplicato per 4 ok e così via quindi se ho una funzione definita in questo modo voglio dimostrarvi o suggerirvi che f di meno x è uguale a 1 fratto f di x ok allora farò in due modi entrambi non posso fare la dimostrazione formale completa ma come vi dicevo darò una un'idea di quello che diciamo è in atto in questa in questa cosa primo modo ok questo è del tutto equivalente a dimostrare che il prodotto della funzione calcolata in meno x e della funzione calcolata in x è uguale a 1 ok bene allora prendiamo la funzione al posto di x mettiamo meno x e la moltiplichiamo per la funzione con la x giusta è chiaro che non posso fare questo prodotto in termini così immediati perché sono infiniti termini però vi faccio vedere che praticamente a parte 1 tutti gli altri sembrano almeno nei primi casi che vedremo andare via effettivamente si può dimostrare che si eliminano tutti questa è la prima strada allora f di meno x come la scrivo al posto di x devo mettere meno x quindi avrò 1 quindi al posto di x metto meno x quindi meno x qui attenzione siccome questa potenza è pari se qui metto meno x è del tutto uguale a mettere x perché la potenza pari elimina il segno quindi qui scriverò un mezzo x al quadrato qui invece è dispari quindi viene meno un sesto x al cubo e poi tutti gli altri termini ok quelli di ordine più grande quando metto questi puntini ricordatevi sono infiniti termini e da questa parte cosa metterò 1 più x più un mezzo x quadro più un sesto x al cubo più puntini 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 allora vediamo questo prodotto che contará infiniti termini chiaramente però iniziamo a guardare i termini che formano iniziamo dal termine di grado 0 cioè numerico senza la x c'è un solo modo per ottenere un termine di grado 0 che è moltiplicare questo 1 per questo 1 e questo prodotto fa 1 fin qua ci siamo quindi grado 0 c'è solo questo adesso vediamo quelli di grado 1 così dovrebbe essere poi chiara nella sequenza quale può essere una strategia diciamo di dimostrazione un po' più generale di quella che sto adottando per avere i termini di grado 1 li posso ottenere in questo modo moltiplico 1 per x e quindi ottengo più x e poi posso moltiplicare questo meno x per 1 quindi ottengo meno x tutti gli altri prodotti vedete che danno termini di grado maggiore se moltiplico questo meno x per esempio per x ottengo meno x quadro quindi andrà nei termini di grado secondo e così via cioè gli unici termini di grado 1 effettivamente sono 1 per x e meno x per 1 come vedete si semplifica adesso guardiamo i termini di grado secondo saranno un po' di più come faccio a ottenere i termini di grado secondo? intanto moltiplico questo 1 per un mezzo x quadro poi posso moltiplicare questo 1 per un mezzo x quadro poi posso moltiplicare questo un mezzo x quadro sempre per questo 1 qua però adesso ho anche un altro modo per avere un termini di secondo grado moltiplico questa meno x per questa più x direi che non ce ne sono altri perché nel momento in cui prendo questo meno x lo moltiplico per un x al quadrato ottengo un termine cubico ora guardate un mezzo x quadro più un mezzo x quadro fa x quadro meno x quadro si semplifica oh bella proviamo i termini di grado terzo ok? e poi mi fermo perché dovrebbe essere abbastanza chiaro quello che succederà andando avanti è chiaro che questa ripeto non è una dimostrazione perché dovrà andare avanti su tutti i possibili gradi che sono infiniti quindi ci vuole una dimostrazione un po' più ingegnosa però dovrebbe darvi se non altro come dire la sicurezza che questo prodotto effettivamente faccia 1 vediamo i termini di grado terzo posso fare 1 per un sesto x al cubo poi avrò meno un sesto x al cubo per 1 poi avrò meno x per un mezzo x quadro che dà un mezzo x cubo poi avrò un mezzo x quadro per x scusate meno x qui c'è un meno scusate perché ho fatto meno x per un mezzo x quadro quindi fa meno mezzo x al cubo poi ho un mezzo x quadro per x che fa più un mezzo x al cubo poi ho per esempio meno x no questo l'ho già fatto scusatemi basta perché per avere una potenza terza posso o moltiplicare una potenza 0 per una potenza terza quindi ho già fatto 1 per questo e 1 per questo ho una potenza 1 per una 2 quindi meno x per x quadro x quadro per x direi che non ce ne sono altre questi sono tutti i termini di terzo grado e come vedete un mezzo un sesto meno un sesto meno un mezzo più un mezzo vanno tutti via allora la cosa potete andare avanti quanto volete che succede per tutti i gradi quindi effettivamente questo prodotto fa 1 e quindi se calcolate la funzione in meno x ottenete il reciproco della funzione calcolata in x ok e questo è vedremo un aspetto molto interessante di questa funzione c'è un altro modo per farlo e lo accenno soltanto per dimostrare questa proprietà v e c'è quello di fare 1 fratto questo polinomi fare la divisione cioè facciamo 1 diviso 1 più x più un mezzo x quadro più un sesto x cubo e qua ci sono tutti gli altri termini ok e questa divisione la facciamo con la divisione di polinomi che vi ho già fatto in una lezione precedente se vi ricordate che mi serviva per uno sviluppo precedente quando abbiamo fatto il campo gravitazionale uno sviluppo vicino a un valore zero per una radice se non ricordo male di 1 meno x allora come si fa la divisione si fa proprio la divisione in colonna quindi dividiamo questo termine per 1 ottengo 1 quindi 1 diviso 1 fa 1 prendo questo 1 e lo rimoltiplico per il polinomi per il dividendo e lo scrivo qua sotto quindi 1 più x più mezzo x quadro più un sesto x al cubo e poi ci sarebbero tutti gli altri termini sottraggo 1 meno 1 va via e qui rimane meno x meno un mezzo x quadro meno un sesto x al cubo adesso vado avanti divido il termine meno x questo per 1 ottengo meno x moltiplico questo meno x per il polinomio ottenendo meno x meno x al quadrato meno un mezzo x al cubo meno un sesto x alla quarta più tutti gli altri termini chiaramente sottraggo questo va via un mezzo x al quadrato meno meno diventa più x al quadrato fa un mezzo x al quadrato meno un sesto più un mezzo meno un sesto più un mezzo fa più 3 fa due sesti cioè un terzo quindi qui avrò un terzo x al cubo più un sesto x al quarto bene ultimo passaggio poi spero che sia chiaro come proseguo facciamo un mezzo x quadro diviso 1 otteniamo più un mezzo x quadro ok e poi riportiamo qua il resto ora vedete che cosa succede che facendo 1 diviso questo quindi abbiamo fatto 1 diviso la nostra f di x stiamo ottenendo qua sotto la stessa funzione ma con i termini dispari se adesso andassi avanti scopro che i termini dispari sono col segno cambiato cioè viene 1 meno x più un mezzo x al quadrato se facessi ancora il termine in grado cubico scoprite che viene un sesto x al cubo eccetera eccetera ma questo è proprio f di meno x perché se ci pensate se calcoliamo f in meno x i termini pari rimangono col segno più ma i termini dispari diventano negativi quindi questo è un secondo modo ok per dimostrare la terza proprietà che è quella che mi interessa più di tutte le altre questa la funzione calcolata in meno x è uguale al reciproco della funzione calcolata in x ok allora come vi accennavo una volta che avete dimostrato questo per esempio la 2 diventa immediata perché beh facciamo prima il caso x maggiore di 0 quindi adesso andiamo a dimostrare la proprietà 2 quando x è maggiore di 0 siccome f di x lo riscrivo per l'ennesima volta così vi entra in testa questa strana funzione un mezzo x quadro più un sesto x al cubo più eccetera eccetera se x è maggiore di 0 vedete che prendo 1 e ci aggiungo dei termini tutti positivi quindi questo è sicuramente maggiore di 1 giusto? bene ma se è maggiore di 1 per x positivi e quindi abbiamo appena dimostrato questa parte qua per x negativi f di x sarà uguale a 1 fratto f di meno x per la proprietà 3 che ho scritto qua basta che mettiate qui un meno e quindi viene più e qui un meno no? da questa e questa sono equivalenti allora se x è negativo quindi f calcolate in x negativi è come fare 1 fratto f calcolate in meno un numero negativo ma questo è un numero positivo questo quando x è negativo è positivo e quindi la funzione è maggiore di 1 per quanto abbiamo appena visto e quindi questa è minore di 1 ma è anche positiva perché questa funzione qua è positiva scusate qua ho sbagliato ho scritto maggiore di 0 intendevo dire maggiore di 1 ok? quindi questa funzione calcolata in meno x se x è negativo vuol dire calcolare questa funzione in un numero positivo ma in un numero positivo la funzione è maggiore di 1 quindi non solo questa frazione è positiva perché abbiamo 1 fratto un numero maggiore di 1 quindi questa è positiva ma siccome il denominatore è più grande del numeratore è anche minore di 1 e quindi abbiamo appena dimostrato o se non altro suggerito la proprietà 2 ok? bene vi lascio da verificare la proprietà 4 e andiamo per ultima a dimostrare la proprietà 5 che è anche molto molto interessante da un punto di vista geometrico sto avviandomi verso la conclusione state tranquille tranquille allora proviamo a calcolare la seguente grandezza f di x più delta x meno f di x potremmo definire questa una sorta di delta f di x cioè con quanto varia la funzione se l'argomento varia di delta x ok? vedremo tra un attimo da un punto di vista geometrico che cosa significa questo e questo introduco un argomento che rivedrete in quinta si chiama derivata è una cosa fantastica in ogni caso limitiamoci a quello che conosciamo allora sfruttiamo la proprietà vista prima ah no scusate non l'ho ancora dimostrata la proprietà stavo andando troppo veloce voglio dimostrare la 5 non la 6 scusate questa che stavo per fare era la 6 allora andiamo alla 5 beh anche la 5 è abbastanza rapida comunque anche perché non do una dimostrazione vera ma un po' falsata allora voglio dimostrare che succede qualcosa del genere cioè che se prendo una funzione e la calcolo nella somma di due valori ottengo il prodotto della funzione calcolata nei due valori separatamente allora dimostriamo questo verso ok? e ricordatevi la definizione di f di x allora f di x per f di y quindi x e y sono due valori diversi possono essere anche lo stesso ma sono due valori che cosa uguale? allora f di x sarà 1 più x più un mezzo x al quadrato più un sesto x al cubo più tutta una serie di termini infinite da questa parte e questo qua lo moltiplico per 1 più y faccio la stessa cosa ma nella variabile y un mezzo y al quadrato più un sesto y al cubo e tutta una serie di valori bene adesso facciamo tutti i prodotti ok? allora iniziamo 1 per 1 quindi otteniamo 1 beh facciamo più prendiamo i valori di primo grado avremo 1 per y e 1 per x quindi x più y ok? poi prendiamo i valori di secondo grado abbiamo un mezzo x quadro sicuramente perché è moltiplicato per 1 poi abbiamo questo 1 per un mezzo y quadro e poi un valore di secondo grado cioè che contiene almeno due volte la variabile è x per y quindi più x per y io ho fatto questo per questo ok? poi vediamo quelli di terzo grado avremo sicuramente un sesto x al cubo poi avremo anche un sesto y al cubo e poi abbiamo anche però x per un mezzo y al cubo quindi scriviamo un mezzo x y al cubo e poi abbiamo anche un mezzo scusatemi al quadrato non al cubo e poi abbiamo un mezzo x al quadrato per y quindi un mezzo y per x al quadrato poi ho anche il termine i termini di grado superiore ma trascuriamo un attimo cioè fermiamoci come qua ci siamo fermati al grado 3 fermiamoci al grado 3 anche in questi termini qua è il prodotto ok? allora guardate che cosa succede qui abbiamo più x più y mettiamo delle parentesi che non sono necessarie ma ci permettono di raggruppare x più y più tra questi tre termini raccogliamo un un mezzo quindi abbiamo un mezzo che moltiplica x quadro più y quadro più e se questo raccolto un mezzo viene 2xy no? un mezzo per 2 si semplifica e mi da xy più tra questi quattro termini raccogliamo un sesto viene x al cubo più y al cubo più avendo raccolto un sesto qua essendoci un mezzo rimane un 3 3xy quadro più 3yx quadro e poi tutti i termini di grado superiore ma questo lo riconoscete è un quadrato quindi otteniamo x più y più un mezzo questo è x più y al quadrato guardate bene è il quadrato del binomio e questo se guardate bene è il cubo del binomio termine di grado 3 poi abbiamo 3xy quadro y cubo e quindi questo è x più y al cubo più tutti gli altri termini se guardate bene questo sembra proprio essere la funzione esponenziale calcolata però in x più y ok se potessi fare anche termini di quarto grado qui avrei vedrete raccogliendo un 24esimo x più y alla quarta eccetera eccetera quindi attenzione non è una dimostrazione perché non ho fatto tutti i termini non ho dato neanche una strategia per verificare che questa venga a tutti i gradi ma suggerisco che questo succeda e vi fidate abbiamo appena intravisto che il prodotto della funzione calcolata in x e y non è uguale alla funzione calcolata nella somma quindi effettivamente a questo punto l'uguaglianza vale nei due versi questa funzione trasforma somma in prodotti o se volete il prodotto in somma e adesso siamo in grado e dopodiché mi fermo e vi faccio vedere un'interpretazione grafica di questa funzione il punto 6 allora supponiamo di voler calcolare il delta della funzione cioè cosa succede alla funzione quando passo da una x a una x più delta x quindi aumento un pochettino l'argomento vi sottrago la funzione nell'argomento originale questo è di quanto varia la funzione variando l'argomento di delta x ok sfrutto la proprietà appena vista questo lo posso vedere come f di x per f di delta x meno f di x giusto perché f di una somma è il prodotto delle funzioni calcolate in x in delta x abbiamo appena dimostrato comunque visto raccogliamo una f di x e qui abbiamo f di delta x meno 1 giusto? ma ricordatevi che cos'è f di delta x questo è f di x che moltiplica f di delta x è 1 più delta x più un mezzo delta x qua vedete questo è l'argomento la funzione cosa fa? prende l'argomento e fa 1 più l'argomento più un mezzo delta x al quadrato più un sesto delta x al cubo più tutti gli altri infiniti termini meno 1 e quindi 1 e meno 1 va via quindi tutti questi termini contengono un delta x ok? ora se delta x è molto piccolo quindi immaginatevi un valore delta x quindi mi sono spostato di pochissimo tutti questi termini al quadrato al cubo sono molto molto piccoli perché un valore piccolo elevato al quadrato diventa ancora più piccolo quindi li trascuriamo e allora ecco perché la sesta proprietà è quella del circa possiamo dire che la variazione della funzione è circa la funzione stessa l'unico che sopravvive è delta x per delta x tutti gli altri se delta x è piccolo sono molto più piccoli quindi sono trascurabili ok? in quarta alla fine della quarta inizio della quinta dimostrerete che quando delta x tende a essere sempre più piccolo quello che si chiama in matematica un limite questo risultato diventerà certo ok? in un certo senso perché questa cosa qua è interessante? beh perché questa la possiamo anche riscrivere così delta f di x fratto delta x è circa f di x ok? ora se pensate al grafico della funzione immaginate che questa sia la funzione f di x calcolata nel vostro grafico cartesiano ok? non sappiamo ancora com'è fatta immaginate che questa sia la x questa sia la y allora se io considero un certo valore della x e mi sposto a un valore vicino x più delta x questo è delta x questo segmento qua sarà proprio delta f no? perché vedete la funzione è calcolata in x più delta x la funzione calcolata in x più delta x meno la funzione calcolata in x quindi questa è la variazione di quanto si alza o si abbassa se la funzione va nel verso opposto di quanto si alza o si abbassa la funzione e questo è di quanto si sposta la x ora questo rapporto io so che cos'è è il coefficiente angolare di questa retta se prendiamo delta x piccolo questa retta approssima la tangente alla funzione quindi quello che stiamo scoprendo è che in questa funzione particolare è venuta una schifezza ma spero che si capisca se questa è la nostra funzione f di x e questa è la retta tangente in questo punto il coefficiente angolare di questa retta è il valore della funzione stessa vedete quindi questa funzione ha come coefficiente angolare della retta tangente se stessa questo è anche una cosa piuttosto interessante bene chiudiamo dando un suggerimento suggerimento su quello che potrebbe essere il grafico di questa funzione allora abbiamo detto forse l'ho dimenticato la cosa più semplice non l'ho fatta adesso devo recuperare le proprietà scusatemi ecco abbiamo detto f di 0 uguale a 1 questa non l'ho dimostrata ma è immediata vedete se metto al posto di x 0 tutti questi termini infiniti sono tutti 0 e quindi qui abbiamo 1 ok quindi la prima la prima cosa che possiamo portare sul grafico è che la funzione quando x uguale a 0 vale 1 quindi quando x uguale a 0 la funzione passa per questo punto 1 poi abbiamo detto che quando x è maggiore di 0 la funzione è maggiore di 1 si scopre che questa funzione cresce invece abbiamo visto che quando x era minore di 0 la funzione era minore di 1 però comunque positiva e vi lascio come esercizio da dimostrare che questa funzione decresce il risultato è quello che si chiama un po' brutto questo grafico ma spero che sia chiaro comunque prendete un qualunque programma per esempio GeoGebra e provate a fare il grafico della funzione questa funzione si chiama funzione esponenziale questa è una crescita esponenziale notate che in ogni punto in ogni punto il coefficiente angolare della retta tangente è uguale alla funzione per esempio in questo punto la funzione vale 1 allora la retta tangente in questo punto avrà coefficiente angolare m uguale a 1 ok? bene chiudo dicendo che c'è un modo compatto per rappresentare questa funzione anziché dover scrivere sempre 1 più x più mezzo x al quadrato più un sesto x al cubo e infiniti termini questa funzione si scrive molto più facilmente in questo modo e alla x dove questo e è un numero particolare si chiama numero di nepero e è la funzione calcolata in 1 quindi quel 2,7 che vi ho detto all'inizio quando mettete qui x uguale a 1 viene 1 più 1,2 più un mezzo più un sesto più un ventiquattresimo alla fine converge a questo numero particolare che si chiama numero di nepero e abbiamo quella funzione esponenziale a questa forma più compatta che vedete sembra una potenza quando noi scriviamo 2 alla quarta 2 alla quarta cos'è? 2 per 2 per 2 per 2 e qui è e alla x e si scopre che effettivamente se questo x è un numero intero ok? per esempio e al quadrato viene e per e e al cubo viene e per e per e ok? quindi questa notazione è molto comoda tra l'altro adesso si capisce con questa notazione che se io faccio il prodotto della funzione calcolata in due punti abbiamo visto prima che questa è uguale alla funzione calcolata nella somma ma questa riproduce esattamente ok? la proprietà delle potenze è che noi sappiamo 2 alla terza per 2 alla quinta è 2 all'ottava cioè sommiamo gli esponenti solo che questa funziona anche quando x e y non sono interi ma sono non sono naturali scusatemi ma sono anche interi funziona anche quando sono razionali e anche quando sono irrazionali ok? quindi si capisce un po' meglio perché questa notazione è anche l'altra cosa e alla meno x per noi la proprietà che abbiamo visto prima la numero 3 era una proprietà del genere noi sappiamo che effettivamente 2 alla meno 3 per esempio è un modo abbreviato per scrivere 2 alla terza avete visto l'anno scorso con il vostro insegnante di matematica quindi vedete questa notazione in forma così di una sorta di potenza ma dove questa variabile non è necessariamente un numero naturale o un intero questa notazione effettivamente permette di semplificare le proprietà che abbiamo visto finora ricordatevi che per la notazione in realtà questo è un modo abbreviato per scrivere una serie infinita di monomi va bene? bene abbiamo visto una cosa importantissima stasera di cui rimarrà traccia spero in ognuno e ognuna di voi e che rivedrete in maniera molto più sicuramente approfondita molto più anche seria tra virgolette dal punto di vista della matematica nei prossimi mesi anni ok ma come vi accennavo nella prossima lezione che sarà di nuovo di termodinamica quindi torniamo alla fisica alcune di queste proprietà mi saranno molto utili vi farò vedere per esempio come va l'andamento della pressione all'interno di una colonna di fluido sottoposta a un'accelerazione di gravità quindi per esempio la pressione nell'atmosfera in un modello semplificato di atmosfera e più in generale la presenza della funzione esponenziale mi permetterà di parlarvi della cosiddetta distribuzione di Boltzmann che è una cosa molto molto importante ed è collegata al discorso di energia genetica che abbiamo fatto all'inizio della termodinamica bene quindi questo vedetelo come una specie di piccola deviazione dal percorso che stiamo seguendo in fisica ho fatto un video enorme di 51 minuti mi scuso tantissimo lo vedrete a pezzi sempre che lo vediate non c'è come vi ho detto all'inizio alcun obbligo ok semmai alcune cose me le chiederete quando torneremo in classe o le chiederete al vostro insegnante di matematica bene vi saluto buonanotte e buon fine di Pasquetta di Pasquetta di Pasquetta